buongiorno a tutti sono Claudio Cileguin per l'agenzia dell'italia digitale in questo mio intervento al webinar vi illustrerò che cos'è il single digital gateway qual è lo stato di avanzamento dei lavori attualmente e qual è il livello di coinvolgimento delle amministrazioni locali nell'attuazione di questo regolamento infatti le amministrazioni locali saranno coinvolte soprattutto per la parte delle procedure online che dovranno essere rese disponibili non soltanto per il cittadino italiano ma anche per il cittadino europeo o perlomeno una parte di queste di queste procedure che la commissione europea ha dettagliatamente indicato quindi vi aspetto per il webinar e vi auguro un buon ascolto e a presto